Ciao a tutti amici di youtube, io sono Mako e questo è Mako's Corner. Bentornati al vostro appuntamento musicale settimanale preferito e come potete vedere dal set e dall'outfit del sottoscritto siamo ufficialmente entrati nel periodo natalizio e con l'avvento del periodo natalizio ovviamente inizieranno anche le reaction alle canzoni natalizie. In particolare oggi voglio portarvi la reaction o meglio la mia prima video reaction ad una canzone che io aspettavo da un sacco di tempo di cui avevo visto il teaser ancora mesi fa in una foto che l'artista aveva postato sul suo instagram e sto parlando di Oh Santa di Mariah Carey featuring Jennifer Hudson e Ariana Grande. Una canzone che appunto io aspetto da tantissimo tempo perché in questo post che aveva pubblicato Mariah si vedevano tipo tre sedie su un set con dietro le iniziali di tre cantanti e già lì era partito il totonomi e c'era un sacco di gente che aveva indovinato tra l'altro quindi io mi ero stragasato pensando ad una collaborazione tra Ariana, Jennifer e Mariah. E così è stato finalmente uscita! Loro tre sono delle idee della musica, Ariana è la regina delle classifiche pop, Mariah Queen of Christmas e Jennifer l'ho adorata in tutti i musical che ha fatto. Questa canzone in particolare è stata registrata per lo special natalizio di Mariah che però verrà trasmesso in streaming solo su Apple TV e quando io l'ho saputo ero tipo ma che cazzo anche io voglio sentire questa canzone? Ma grazie a Jesus Santa Mariah ha deciso comunque di blessarci condividendola su tutte quante le piattaforme streaming e su YouTube. Quindi senza ulteriori indugi mi metterai nella postazione visto che qua ho lo schermo e guardiamoci insieme la performance ufficiale di Ossenta. Ma che figata è il set? E i bimbi? Ui a Jennifer! Ariana parliamone perché devi essere sempre così figa in ogni tuo potuto video perché mi devi attaccare in questo modo? E la formazione triangolare tipo Dreamgirls, anzi ancora meglio tipo la Unholy Trinity di Glee. Ecco abbiamo Santana, Brittany e Queen al centro con tanto di coreografia come quando loro hanno cantato I costumi dei ballerini sono bellissimi. Uuuu for your hips! Ho notato che tipo il loro stile di canto è molto diverso. Jennifer è molto più eeeh mentre Ariana è molto più dolce con i vocals. Mariah è un mix dei due ma si armonizzano alla perfezione. Tra l'altro anche i loro costumi, non solo quelli dei ballerini, anche i loro sono fighissimi. Tipo a Mariah stanno palesemente per esplodere le tette. Ariana sta da dio con questo vestitino in velluto con le spalle scoperte. Super super figo. E invece Jennifer è molto più showgirl, paiettosa. Porchè ma? Cioè Jennifer che ha appena tirato un acuto mentre ste due e Mariah come alla performance di Capodanno ragazzi quando si è adagiata sui ballerini dicendo let the audience sing! Qua la vedo già più presa. Ora sono tutte insieme però non riesco a capire se sono insieme davvero oppure le hanno messe per la computer grafica perché quando fanno tipo lo zoom si vede che dietro c'è la CGI ma forse è solo perché c'è il pannello con gli ingranaggi che quello è finto. Questo penso che fosse il momento che aspettavamo di più. Occhio perché adesso parte la battle ovviamente tra Ariana e Mariah. Sono lì che si fanno il botta risposta mentre Jennifer... Come non detto? Cosa ho appena sentito? Le armonizzazioni sui whistle tones. Mariah Carey's Magical Christmas Special. Su Apple TV perché dovevano per forza metterlo su Apple TV così Marco non poteva vederlo. Beh che dire ragazzi io sono ancora scioccato dalla parte finale non so voi. Grazie 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 davvero di aver fatto questa collaborazione Mariah, Ariana e Jennifer perché avete sicuramente reso il Natale un po' più spicy. Specialmente in questo periodo in cui il Natale ragazzi almeno per me farà davvero schifo quest'anno. Necessitavo assolutamente di qualcosa di catchy e divertente da ascoltare perché appunto non so voi ma io entro nello spirito natalizio definitivamente soltanto ascoltando canzoni di Natale. E cosa dire con questa canzone they fucking save the Christmas. How to make a bop. Seriamente. Ora però l'unica cosa che mi fa incazzare è che non posso vedermi tutto lo special. Ragazzi questa era la mia reaction. Io spero che vi sia piaciuta e spero anche che la canzone vi piaccia. Fatemelo sapere nei commenti. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, di lasciarmi un bel mi piace e di seguirmi nei social che trovate in descrizione. Noi ci rivediamo ad un prossimo video. E ciao. Ciao a tutti.